Al centro dell'attenzione in questi giorni in città ci sono le esercitazioni del nonno reggimento alpini dell'Aquila dopo che il parco ha espresso parere favorevole alle esercitazioni appunto a Monte Stabbiata, territorio vicino a Colle Brincioni, tra i comuni di Pizzoli e l'Aquila, sia alle esercitazioni ma con delle regole precise che stabiliscono anche giorni, che viatano esplosioni e mettono dei paletti anche al passaggio dei mezzi. Si tratta di un parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale relativa alle attività addestrative svolte al poligono di tiro. Positivamente si è espresso anche il sindaco Pierluigi Biondi, ma si registra al tempo stesso la presa di posizione della stazione ornitologica abruzzese e altre associazioni. Gli alpini potranno campeggiare e fare attività in bianco, non a fuoco dunque, a piedi in 50, scrivono le associazioni, che ricordano come il loro intervento sia stato decisivo. Nel sito, ricorda pure l'associazione, sono state svolte per decenni esercitazioni a fuoco e con mezzi pesanti, nonostante fosse un parco nazionale, attività che loro avevano segnalato come incompatibili, vista anche la situazione sul campo, con il codico erboso solcato da una miriade di piste visibili addirittura dalle foto satellitari. Per non parlare di un'area risultata contaminata da metalli pesanti, per la quale da anni è ancora aperta una procedura, presso il Comune dell'Aquila ricordano. Le associazioni ricordano che quelli sono habitat tutelati a livello europeo, che ospitano comunità di fauna e flora protetti dalle normative. Per questo chiedono che bisogna comunque imporre il ripristino degli habitat e concludere la procedura di bonifica ancora aperta. Grazie all'intervento delle associazioni, ora gli alpini non potranno condurre esercitazioni con mezzi militari che scorrazzano sopra i prati, che sono habitat tutelati a livello comunitario all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. Prima si facevano addirittura esercitazioni a fuoco, ora potranno andare solo a piedi gli alpini e fare sostanzialmente un campeggio. Sicuramente un miglioramento, in generale possiamo dire che a nostro avviso un parco nazionale deve rimanere regno di aquile, orsi, lupi e ospitare un turismo sostenibile da tutto il mondo, quindi escursionisti, non esercitazioni militari. Quindi riteniamo che gli alpini debbano scegliere un luogo alternativo e anzi intervenire per restaurare un ambiente che è stato pesantemente impattato da queste esercitazioni fatte nel passato, Grazie. 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 Grazie.